Siamo qua con Federica Carletti della WIBA Volley Booster Sizio. Com'è stata l'emozione di tornare a Finerolo stavolta ad arrivare? In realtà a Villafranca va a giocare contro Finerolo. Sicuramente è stata una grande emozione, è stata la mia casa per due anni e rimarrà sempre nel mio cuore. Sono stata benissimo, sono stati due anni bellissimi, richiede emozioni per me tornare qua e come sembra un po' tornare a casa. E cosa ne dici della partita? Siete partite fortissimi e poi dopo vi siete un po' spente. Sì, siamo partite molto bene, sicuramente loro al primo set non hanno giocato come gli altri tre perché comunque questo va detto. Noi secondo me sul finale, su punti un po' importanti, ci siamo un po' persi, non siamo riusciti a chiudere.